Ehi la giurma, non ho staccato un attimo, sono qui di nuovo con voi, terzo episodio fisico che sto facendo, ci siamo lasciati con il discorso tra Tolomeo e Cleopatra mentre gli altri stanno cercando di entrare in libreria, direi qualsiasi cosa ti dica la regina, avrei forse potuto scegliere qualcosa di diverso, hai preso una piega un po' osè, la parafrasa un po', no? Mi porto a letto chiunque io voglia e certamente non include te, anche perché comunque ci ricordiamo che nell'antico Egitto nonostante si sposassero, no nonostante, si sposavano tra fratello e sorella avevano figli insieme, per cui normalmente sarebbe stato normale che Cleopatra e suo fratello che era anche suo marito avessero dei figli Giustizia Beh, è un accordo Non lo so Eh esatto, entrambi avranno lo stesso potere E Roma continua a approfittare del commercio, dell'accordo commerciale Penso che sia una pessima idea perché entrambi si ucciderebbero a vicenda Potrebbe essere, ma per quanto riguarda Roma è un esito che è anche accettabile L'uomo è stato ucciso da uno dei servitori della regina Eh sì, tutto il resto del nostro gruppo Stanno rilassando fuori, immagino Non è che potrebbero mettere a fuoco il palazzo Vuoi vedere che adesso va a fuoco tutto Eh, mi sa che succederà, cioè Tra un attimo Che c'è l'audio, se non sono curioso Oh, ehm, hello Chi sei? Eh, prima Non lavori per il senato, lavori per l'urco Entrami lavoriamo per il senato Il mio nome è Iulia Calida E ho bisogno dei tuoi servizi Hai bisogno di... conti? Di, 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 sì, di... Insomma, roba di, 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 di contabilità Aveva giusto bisogno dei tuoi... Registri contabili Non ci sono registri contabili So che mi vuoi fuori di qui E sarò contenta di farlo Dammi semplicemente i registri contabili Me ne vado Ah, non può essere scritto niente Tutti i numeri sono nella sua testa Non volevo fare niente di illegale Ma il faraone ha detto che mi avrebbe... Che è capitato se me ne fossi andato E allora chi ha scritto questo registro contabili Che abbiamo trovato? Ho usato un cifrario molto complicato L'ho scritto io Ma era per qualcun altro Per l'uomo che gestisce la Vixie Volevo una lista Allora l'ho resa più difficile da leggere Di quanto potessi Chi è che comanda la Vixie? Non mi hanno mai detto Non penso che nessuno lo sappia Nemmeno nella Vixie Lo conosciamo solo che la grande ombra Cosa sai della regione 17esima? Sono dei... Ah, ci sono 1298 persone che sono pagate Nella Vixie E sono dei ladri Insomma Pondi che dovevano essere pagati come tasse a Roma Sai se è stato l'urco che ha fatto uccidere lo culo? La morte del proconsul ha portato un sacco di attenzione a quello che stiamo facendo qui La morte del proconsul ha portato un sacco di attenzione a quello che stiamo facendo qui Penso che sia stato quindi il faraone Ha senso Se quindi tu sei i registri Abbiamo bisogno di portare te fuori di qui Vorrei poterlo, credo mi Ma loro ci uccideranno se proviamo a uscire Se ti garantiamo la sicurezza E testimonierai davanti al senato? Farei qualsiasi cosa che vuoi Non volevo mai fare niente di male Quando inizierà l'assalto ad Alessandria Nasconditi nella libreria Ti troveremo Grazie Questa è un clouder Un clouder di messaggio sta invadendo il palazzo E' un segno di Ubaste Pensi che possa chiedere l'attenzione al tuo faraone? Corvino, vai vedere cosa succede Chissà se vuole vedere con la sacerotese che abbiamo incontrato qui Questo sta cadendo a pezzi sotto il tuo governo incompetente Siamo qui per negoziare, non per insultarci a vicenda Qual è il tuo gioco qui, Legate? E' scorto abbastanza sangue Sto cercando di trovare una soluzione pacifica Non era caduto una singola goccia prima che tu fossi apparsa Avrei potuto trovare una soluzione a tutto questo A parte del c***o, dici? Se un omicida è un traditore Voglio vederti punito Non ho niente a che fare con l'omicidio del nostro proconsul Il palazzo sta venendo invaso dai gatti E' un desiderio, cioè un presagio malvagio Dovevamo aggiornare la seduta e evacuiamo la sala E' un'esperienza interessante Cosa avete fatto? Cosa avete fatto? Giove Centumpeda Dei centopiedi? Ok? Cosa avete fatto? Ho avuto una bella idea che includeva i gatti Ma forse riusciamo anche a salvare la pesta di quella povera ragazza Siete riusciti a imparare qualcosa di importante? Cosa è un uomo che mantiene registri per Vitellius Locus Claudius Tranquillus Infatti lo mantiene puri Claudius è tranquillo che c'è solo tutta la roba in testa E pensa che sia stato Tolomeo a uccidere Locullo Quindi non ci serve Però il casus belli ha senso che ci solleva un po' E' vero E' vero Aggiungere che Durco sta rubando dei soldi a Roma E che vuole testimonire Che testimonierà davanti al senato Qua è la nostra prossima mossa? Dobbiamo tirare fuori dalla città Tranquillus Questo vuol dire invadere Alessandria e catturare il palazzo però Va bene Lo salveremo durante l'assalto Sai perché lo salviate dopo aver tolto la testa a Tolomeo? Andiamoci La prossima volta che siamo qui Questo palazzo sarà mio Va bene Pensavo che si sarebbe protratto più lungo questa parte qua E invece Invece no Ce ne stiamo andando Sì C'è della roba qua per caso? No Volevo vedere se per caso ci fosse stato qualche Qualche kern Non lo so Ci sono ancora i kern Qua? Forse no Se qua è una torcia che si vede solo di Ciao raga Quindi cosa succede? Succede che dobbiamo conquistare anche le ultime province Per fare la sedia di Alessandria No mi sa che dovremmo prendere Provincia e assedio No penso provincia e assedio L'assedio è sempre la parte finale Anche perché poi questa parte qua mi sa che conclude la parte dell'Egitto e Torniamo a Roma Credo E termina tutte le queste principali Ma le abbiamo terminate? Non le abbiamo terminate? Boh nel dubbio andiamo in giro Messaggio da Menfi Una lettera dalla società di testa di Ubaste E' scritta abbastanza in latino ma è stranamente informale Ok 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 Sto cercando di trovare supporto a Memphis Ah ok Sto cercando di trovare supporto a Memphis Ah ok Sto cercando di trovare supporto a Memphis Se roviniamo sui piani Sembrerà un leader inefficace Sembrerà un leader inefficace Raya Va bene Quindi dobbiamo andare a Memphis Effettivamente mi ero dimenticato Il fatto che a Memphis non c'eravamo poi andati Seriamente Cioè c'eravamo andati per la storia della Della lama Ma nulla Nulla di più Adesso abbiamo dei punti non spesi Ehm Livelliamo Livelliamo Allora questo qua Ehm Cos'è che è? Immunità permanente contro Rebooke Shove Shield Push Shove Repulse Counter Advance Cioè non mi possono spostare Ma chi se ne ha dammi della vita Ehm Lui ha tutto Quel ramo la Anche tutta la vita Cosa facciamo? Ehm Più di 20% shield damage Quando è al massimo Il Cosa che Questo E' buono Che non appesantisce troppo Non è appesantito troppo Dalla Dall'armatura Ehm Sine Ross Guarda come sembra tutto Megaforzuto Rispetto al vecchietto Che abbiamo incontrato Logistics Non l'abbiamo più usato Effettivamente Andrei qua però Guidance Dai Anche se il Warhorn Forse era meglio Ma perché questo c'ha il Il 15 healing ad area Che è molto buono Bestia Bestia cosa deve fare? C'ha il Non trigger agli attacchi di opportunità Che ci sarebbe servito molto Nella stadio Per cui Assene solo Lei ha Il A 100% di critico per tutti gli attacchi come Interrupt e Overwatch Vai Così fa ancora più danno sul suo Interrupt Deia Neira Deia Neira Cosa facciamo con Deia Neira? Facciamo sempre la roba dell'armatura che la appesantisce di meno Allora Allora Lucius E' un Destroyer Va bene Recupera vita quando secca della gente incapacitata E' un Warcry Abbiamo visto che ci è servito nella piramide per cui Meglio Investirci Allora Lui darei Powerful kick ci sta che può essere sempre buono nella difensiva Anche se non l'abbiamo quasi mai usato Buono sì dai ci sta Usa il focus per ripristinare le azioni Eeeh A lui anche gli diamo il tactical advance che può sempre servire E a lui diamo Un po' di vita Ci sta Inventory Cosa che ci è andato? Un libro Il fronente di legno Un pezzo di legno Una corda Ma sì ho capito un po' se servivano per quella parte la dai Perché ci sono rimasti Vedete sono idol ma non ho tutta questa voglia di andare a A raccogliere cibo eh Ah questa quindi è un'altra regione C'è una regione qua e una regione là Poi tutta una in cui la capitale è qua Ma posso attaccarlo? Dovevo prendere 12 cose le abbiamo presi Vabbè andiamo ad attaccare a questo punto Eeeh Dure e pericolose Dure e pericolose Ok Eh qua c'è un'altra città effettivamente qua Beh Va bene sì Una battaglia Una battaglia Allora facciamo che Sistemare quello che possiamo tipo così Ah però Perché abbiamo un survival chance così bassa? Una buona esperienza i tizi Se scende lo scudo ci da Difesa dei nemici Non è un problema Padrona Che ora sono? Finiamo con questa battaglia Vediamo con questa No è i neni? No sei pazzo? Cavalry No No Eeeh Vediamo con un stand firm E tipo è mareu Parei show mercy Allora Allora pacificare la regione Dobbiamo mandare Eeeh Il legionario da quale parte? No Dobbiamo parlare con il primo Spiros Allora voglio solo arrivare qua sotto per mostrare la cittadina Ok Eeeh Nulla Lo vedremo nel prossimo episodio a questo punto Questa roba qua Io vi invito come al solito Lasciate un mi piace qua sotto Iscrivervi al canale Lasciate un commento sempre qua sotto Ci vediamo nel prossimo episodio Ciao a tutti Buona giornata